Un saluto da Ede Software. In questo video illustreremo le funzionalità di PCM attraverso la valutazione della sicurezza di un edificio esistente in muratura sottoposto ad azione sismica. Il caso studio è tratto dal volume Manuale delle murature storiche, diretto dal professor Antonio Borri. L'edificio è costituito da un piano seminterrato, due piani fuoriterra e la copertura. La struttura verticale è realizzata in muratura di pietrame, con alcuni elementi in muratura di mattoni pieni. I solai di piano sono in latero cemento, mentre la copertura è in legno e supportata da capriate. La prima parte della dimostrazione sarà relativa alla modellazione architettonica dell'edificio. Seguiranno le analisi elastiche per la valutazione del comportamento globale e l'analisi cinematica dei meccanismi locali di collasso. Prima di partire con la modellazione, introduciamo brevemente le varie parti che compongono l'interfaccia del software. Al centro è presente la finestra grafica, che è suddivisa in sottofinestra per la rappresentazione contemporanea di più viste del modello. In questo caso, a sinistra, abbiamo una finestra 2D che mostra la pianta del piano terra, mentre a destra abbiamo una finestra 3D che mostra una vista sonometrica. Con questo tasto in basso a destra è possibile scegliere un diverso layout delle finestre, arrivando a visualizzare fino a quattro finestre in contemporanea. Per modificare la vista della finestra corrente possiamo sfruttare le voci nella scheda progetto del navigatore. Ad esempio possiamo attivare per la prima finestra la pianta della copertura e, per la terza finestra, la sezione S01, precedentemente definita con lo strumento apposito. Nella quarta finestra possiamo attivare la stessa sezione ma ruotare la vista in modo da ottenere una sezione 3D dell'edificio. Il navigatore, che costituisce la parte sinistra dell'interfaccia, contiene oltre alla scheda progetto le schede relative alla gestione di materiali, sezioni, gruppi strutturali, condizioni di carico e cinematismi. La barra multifunzione in alto contiene la maggior parte dei comandi del programma ed è organizzata in schede relative alle diverse fasi della progettazione, la modellazione architettonica, le analisi elastiche e l'analisi cinematica. Sulla destra dell'interfaccia troviamo la scheda delle proprietà che elenca le proprietà degli elementi selezionati. Vi sono inoltre la scheda report e altre schede specifiche delle varie analisi. Detto questo partiamo subito con la fase di modellazione creando un nuovo progetto. Il primo passo è la definizione dei piani dell'edificio. Nella scheda progetto del navigatore clicchiamo quindi su gestione piani. Per questo edificio, oltre al piano fondazione, abbiamo bisogno di quattro piani che inseriamo con il tasto aggiungi. Il primo è il piano seminterrato che va dallo zero di progetto per un'altezza pari a tre metri e mezzo. Il secondo è il piano terra con un'altezza pari a quattro metri e mezzo. Il terzo è il piano primo anch'esso con un'altezza pari a quattro metri e mezzo e alla fine abbiamo la copertura con un'altezza pari a due metri. Definiamo ora i materiali che costituiscono l'edificio. Ci portiamo nella scheda materiali del navigatore e clicchiamo su gestione materiali. Avremo bisogno di due tipologie di muratura esistente. Una muratura in pietrame disordinata, per la quale si intende raggiunto un livello di conoscenza LC2, quindi specifichiamo fattore di confidenza 1 e 20, e valori medi dei moduli elastici e delle resistenze. Inoltre nel modello è presente una muratura in mattoni pieni e malta di calce. Anche in questo caso si intende raggiunto un livello di conoscenza adeguato, quindi specifichiamo un fattore di confidenza pari a 1 e 20, e valori medi delle resistenze. Scorrendo i vari parametri, notiamo che per questa muratura, a differenza della muratura in pietrame disordinata, è presente il parametro FVM0, oltre ad altri parametri specifici delle murature a tessitura regolare. Chiudiamo ora la finestra dei materiali e passiamo all'inserimento dei disegni che utilizzeremo come riferimento per la modellazione. Assicuriamoci che il piano attivo sia il piano seminterrato. Clicchiamo quindi sul comando disegno e selezioniamo la pianta in formato DXF del piano seminterrato. Il disegno appare così nella finestra grafica. Nella preparazione dei disegni in DXF si è avuta l'accortezza di posizionare le entità grafiche in corrispondenza dell'origine degli assi, mantenendo lo stesso punto di riferimento tra tutti i piani in modo da semplificarne l'inserimento. Inoltre i disegni sono stati depurati di tutte le entità non necessarie, come testi, quote, arredi e blocchi, in modo da non appesantirne la visualizzazione. Selezionando il modello è possibile definire un fattore di scala qualora l'unità utilizzata nel DXF sia diversa dal metro ed è possibile attivare la visualizzazione del disegno anche in 3D. Procediamo quindi con l'inserimento dei riferimenti ai piani superiori. Attiviamo la vista del piano terra con il doppio clic sulla voce relativa. Clicchiamo su disegno e questa volta selezioniamo la pianta del piano terra. Anche in questo caso attiviamo la vista in 3D del disegno. Come si evince dalla finestra 3D, la pianta è perfettamente allineata con quella del piano inferiore. Se questo non fosse il caso, sarebbe possibile sfruttare i comandi della scheda strumenti per spostare il disegno nella posizione desiderata. Una volta inseriti tutti i disegni di riferimento, possiamo partire con l'inserimento dei muri. attiviamo quindi la vista del piano seminterrato e clicchiamo sul comando muro. Specifichiamo il punto iniziale sfruttando gli snap offerti dal disegno di riferimento. Prima di cliccare sul punto finale, possiamo modificare l'allineamento del muro rispetto alla linea di riferimento, il materiale e lo spessore. In questo caso definiamo uno spessore di 55 cm. Clicchiamo quindi sul punto finale e confermiamo con il tasto destro. Un ulteriore clic con il tasto destro del mouse ripete l'ultimo comando attivo, in questo caso l'inserimento del muro. Questa volta lo spessore del muro era pari a 60 cm. Possiamo quindi selezionare i muri inseriti e modificare lo spessore nella finestra delle proprietà. Un altro modo per inserire il muro è il comando muro rapido. In questo caso è sufficiente tracciare una linea che intersechi la traccia del muro nel disegno di riferimento e il muro viene automaticamente creato con il giusto spessore. Ripetiamo quindi la stessa operazione per tutti gli altri muri. I muri così definiti devono essere ora estesi e raccordati. Per estendere il muro possiamo agire sui grip poste all'estremità della linea di riferimento. Clicchiamo sul grip e lo trasciniamo nella posizione desiderata. In questo caso, potendo contare su un buon grado di ammorzamento tra le pareti, possiamo estendere il muro fino alla linea mediana del muro perimetrale. Per raccordare i muri utilizziamo il comando raccorda nella scheda strumenti e selezioniamo i due muri da raccordare. Ripetiamo l'operazione con il tasto destro per tutti gli altri muri. Nella fase di modellazione possiamo contare su tutti gli altri strumenti di modifica tipici di un ambiente CAD come il comando sposta, copia, ruota, spezza ecc. In qualsiasi momento è possibile selezionare uno o più elementi e modificarne le proprietà. In questo caso, specifichiamo che il materiale del muro è muratura di mattoni pieni. Passiamo quindi all'inserimento delle aperture. Clicchiamo sul comando apertura e inseriamo l'apertura specificando il punto iniziale e il punto finale utilizzando gli snap offerti dal disegno di riferimento. Ripetiamo quindi l'operazione per tutte le altre aperture. Una volta inserite le aperture è possibile selezionarle per modificarne le proprietà. In questo caso le selezioniamo tutte e specificheremo un'altezza pari a 2,20 m. Passiamo ora all'inserimento dei solai con il relativo comando. Per definire il solaio è sufficiente cliccare all'interno di un'area chiusa delimitata da muri o travi. Clicchiamo quindi all'interno dei vari campi per definire i vari solai. Una volta che i solai sono stati inseriti è possibile associarli dei carichi che saranno distribuiti agli elementi di contorno. Per questi solai definiamo un carico permanente di 2,05 kN al metro quadro, un carico permanente non strutturale di 1,95 kN al metro quadro e un carico variabile di 3 kN al metro quadro associato alla condizione di carico elementare variabile categoria C. Si tratta di solai in latero cemento con un'orditura principale parallela all'asse X. Confermiamo quindi l'angolo della direzione principale ma impostiamo una distribuzione trasversale pari a 30 in modo che il 30% del carico totale sia distribuito ai muri paralleli alla direzione principale. A questo punto possiamo passare alla modellazione dei piani superiori. Attiviamo il piano terra e inseriamo muri aperture come abbiamo fatto per il piano seminterrato. In questa posizione è necessario definire una trave in spessore di solaio per delimitare due campi di solaio con diversa orditura di cui uno associato al vano scala. Per inserire la trave è necessario definire un'opportuna sezione trasversale. Andiamo quindi nel navigatore alla voce sezioni e clicchiamo su gestione sezioni. Selezioniamo la voce rettangolari e aggiungiamo una nuova sezione per la quale definiamo una lunghezza di base pari a 500 mm e un'altezza pari a 300 mm. Le caratteristiche della sezione quali aria e momenti di inerzia rispetto agli assi principali si aggiornano automaticamente. Attiviamo quindi il comando trave. Selezioniamo la sezione appena definita e inseriamo la trave specificando il punto iniziale e il punto finale sfruttando gli snap. Affinché nella creazione del modello strutturale la trave sia correttamente collegata alla struttura è necessario che la sua traccia in pianta tocchi il contorno delle strutture adiacenti. A questo punto è possibile definire le altre maglie di solaio e passare alla modellazione del piano primo e del piano copertura.